Per i prossimi 45 minuti vi spiego che cosa andremo a fare. Sembrerà un gioco ma non lo è. Diciamo che è un gioco e non lo è. Una delle tecniche che insegno quando facilito persone, gruppi e relazioni è di amplificare l'esperienza per riuscire a davvero accoglierla in pieno. Cercare di solo comprendere un'esperienza mentalmente non funziona in pieno. Quindi questo è uno spazio adesso molto ristretto per riuscire ad amplificare l'esperienza. Ci ho detto ci proviamo. Quindi diciamo che qui c'è un palco. Tutti coloro che non sono sul palco devono stare da questa parte seduti per terra o sulle sedie. Voi iniziate perché siete già lì. So the way this works, the way this works, the audience is very important. Allora il pubblico è molto importante. Why? Perché? E' qualcosa di cui ancora non abbiamo parlato, ma si chiama la vostra seconda attenzione. La prima attenzione è data da ciò che si vede. Così, in questo modo. E' la prima cosa che vedi. E' la prima cosa che senti. La seconda attenzione. Vi invito tutti a mettere le dita in questo modo. E vi chiedo di aprire lentamente. E vedete se riuscite a mantenere le dita. in un'ottica di consapevolezza, dove riuscite ad avere il massimo della consapevolezza delle dita. Ora notate le differenze da questa visione del mondo. E notate ciò che succede quando espandete la vostra consapevolezza con i sentimenti, con il corpo e con la vista. Avete notato la differenza? Che cosa avete notato? che per vedere insieme il flamore non puoi più guardare l'oggetto, ma devi guardare altrove. Si scuola tutto il flamore, si scuola la vista. That's right. The thing that happens is that your awareness expands. E ciò che succede è che la consapevolezza non si spande. So, you feel more. Can you see? You are more sensitive. Quindi si riesce anche ad avvertire di più, si diventa più sensibili. And you see more. E si vede di più. So, the way I want you to watch this, e quindi process now, in quello che adesso andremo a vedere, il modo in cui io voglio che... It's not like this, non è così, it's like this. No, è così. I want you to notice the impact. Voglio che notiate proprio l'impatto. Yeah, so I want you to notice the impact of what we are going to call the light side. Quindi dovete notare l'impatto di ciò che chiamiamo la luce. And the shadow of the archetype. Dell'archetipo. So, I'll ask you some questions as the process happens. E poi vi farò delle domande man mano che questo processo ha luogo. To amplify means to make it big. Amplificare significa ingrandire. To make it wider. Di renderlo più ampio. Through all the channels. Attraverso tutti i canali. Yeah. And this is an exercise that during the next few days we'll do again, but in a smaller space. E questo è un esercizio che ripeteremo nei prossimi giorni, ma in un ambiente un po' più ristretto. Okay, so, which group are you? Quindi, che gruppo siete? So, you are going to represent the light, the shadow, or both together. You can see, you can't put them in a box. È stato chiesto se intendono mostrare prima la luce o l'ombra, e la risposta è stata amplifica la tua visuale. Non mi sette. Vabbè, più o canzino. Mm-hmm. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Restate qui. Notiamo l'impatto. Quindi la prima domanda, che cosa avete notato, che cosa vi ha attirato, cos'è stato particolare che vi ha attirato? Trovate una qualità, che sia una qualità o uno stile di comunicazione, qualunque cosa, che cos'è che vi ha colpito? Il loro piacere, il loro divertimento. La vivacità, i colori. La diversità, la dimensione magica. Grazie a tutti. What else did you notice? Il suono. The sound. Me too, I noticed the sound. That was amazing. Era sorprendente. E' il caos finale. Caos barra creatività. Avete notato un momento dove la sicurezza è diventata una questione problematica? L'avete sentito nel corpo? L'avete sentito nel corpo? Sì. Alguien può dire dove l'avete sentito? Come avete notato che la sua sicurezza potrebbe potenzialmente essere a rischio? E dove è che l'avete sentito? Dove è che avete proprio sentito che la sicurezza poteva essere a rischio? Lo so. In the heart. In the heart. What else did you notice that was a bit ooh? Che cos'altro? Che cos'altro? Che cos'altro? Too much noise. è il fatto di essere con il controllo e di l'ombra di questo archetipo è una situazione che dà quella cosa prima iniziale e poi diventa tutto intenso questa è una domanda difficile è una risposta anche molto personale in base alla vostra esperienza anche culturale da dove venite, in Italia o fuori mi viene a dire che questa è un'energia in Italia che viene sostenuta o viene oppressa? socialmente oppressa do you think the more we oppress this energy what's gonna happen? e secondo voi più opprimiamo questa energia che cosa rischia di accadere? esplosiva depressione, esplosiva violenza, rabbia violenza, that's right it's gonna really explode in our face so for you how was it to give yourself permission to explore this energy what was right about it? what felt good about it? freedom libertà it's a very judelessness there is very little judgment in this energy appunto c'è poco giudizio in questo tipo di energia would you say anybody here at a personal level would you say that your life would change if you were to use this energy a bit more? a livello personale mi viene da dire che se potesse dare maggiormente questa energia con la vostra vita personale potrebbe rinambiare in a particular area so we're gonna do one more thing with you facciamo una cosa con voi la mia sensazione più forte è che questo tipo di energia ha molto difficoltà con il gruppo cioè come dire in un gruppo può essere in un gruppo già se ci sono due cioè nonostante eravamo molto commessi con il cosmo eravamo molto eravamo molto eravamo molto eravamo 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 almost way too much so how many work together it's hard to contain I understand in which archetype do you usefully function best? in which archetype do you usefully function best? yeah good kings and good queens struggle with this energy I just want to reflect back the word you used yeah you say where to put it yeah so if we have one if we have two if we have one yeah 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 it's right the amazing thing of this energy is that you can't put it anywhere this energy is free yeah and this is the energy in us that is free and that has a wish for freedom so you can't lock freedom so in a team in teamwork you need to find spaces and times in a team for this and for this this has to have equal right on the agenda and this is what I'm trying to teach you all that from the philosophy of process work to be deeply democratic and to welcome diversity means that all styles have equal speaking space within an agenda so if I had when I work with teams that have this kind of energy a lot I actually many times say to them you have a whole afternoon to be the rulers of the agenda and I say this is the topic I have a problem with in the organization we don't have enough money and I say here is the topic I say that to the dreamers I say go away and bring me something that we can use and then you can use the energy and do it in whichever way feels free to you and then it's very interesting what comes back to the team it is crazy wisdom it is out of the box and you have gold that sometimes you can use for the development of the organization e a quel punto hai del loro che puoi utilizzare per lo sviluppo dell'organizzazione quindi quando c'è tutta questa energia e si cerca di comprimerlo devi avere dei luoghi dove puoi dire ok, vieni, vieni ovviamente a volte bisogna anche dire ma in questo momento sì e a volte neanche questo funziona a volte questa energia viene quando deve venire ed è per questo motivo che in quanto facilitatore devi avere abbastanza di questa energia in te in modo tale che quando arriva puoi anche servare you can surf this is a wave you need to surf and those are the skills I teach how to surf and I really hope that I have an opportunity to come a little bit more often so that I can really teach because surfing with group work is a science e spero di avere l'opportunità per venire in futuro e insegnare questo aspetto perché riusci a surfare come gruppo o in gruppo è una vera coscienza the hope what I wanted you to get in these four archetypes today is that you find just give a moment to these energies and appreciate them for what they are quello che volevo sottolineare in questo pubblico evidenziando i quattro archetypi era semplicemente di apprezzare l'esistenza nei quattro archetypi e di prendere quello che si può ma soprattutto conoscerli e apprezzarli and if I had homework for you e se potessi darvi dei compiti da fare a casa which you can do or not I won't be checking non è che venga a controllare but if I was to give you homework I would encourage you as medicine people trying to get to know this energy better ma se volessi darvi dei compiti a voi sciamani per poter conoscere meglio questa energia I would encourage you to repattern and to access this energy you repattern and access energy in the mornings or in the evenings vi incoraggerei a rischematizzare questa energia la mattina e la sera that means in the morning five minutes questo significa la mattina cinque minuti where you get dressed in this way dove ci si resta in questo modo and you put music e si mette la musica or you do anything that supports you to free it up o fai qualunque cosa che ti permetta di liberare so that then as your day goes through si mamma che si sviluppa la giornata that energy is more awake quella energia si risveglia e quindi si ha un accesso più so suddenly this starts to happen quindi un qualcosa inizia ad accadere semplicemente and then your body goes oh I remember e il corpo dice no ma lo so da la 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 perché la mente dice no non lo so mai più ma il corpo ha bisogno di che c'è un'altra opzione so that's what I would encourage you to do so we're gonna do one minute more with you quindi facciamo ancora un minuto con voi so if you all stand up I want you to see the difference of something now and I'm gonna do la differenza I'm gonna do this with everybody ma lo farò con tutti eh an amplification technique means you make it bigger una tecnica di amplificazione significa che lo si ingrandisce and then you slow it down e poi lo si rallenta in order to really capture the essence of it per poter cogliere l'esistenza yeah so when I count to three quindi contro fino a tre you're gonna go back to your beginning poi ritornerete al vostro incipit come avete iniziato and you're gonna have one minute to go back into the movement and the sound e avrete un minuto per rientrare nel movimento e nel suono but I want you to be really in contact with your medicine with your freedom ma voglio che siate davvero in contatto con la vostra libertà I don't want freedom to drive you non voglio che sia la libertà a guidarvi I want you to drive freedom ma siete voi a guidare la libertà see you must be in contact with the movement I want you to slow it down dovete essere in contatto con il movimento rallentare il movimento and really feel the sound and until you are so close to the experience and you'll see the difference avvicinatevi all'esperienza e poi vedrete sicuramente la differenza vedrete che cosa succede quando lo si imbottiglia e si è in contatto e non ti prende ma sono troppo scelta so 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 this is the difference is that now you take a moment to close your eyes and you call forth the spirit of the medicine woman or the medicine man in you invocate in voi lo spirito del sciamano in voi and just feel and remember the movement that you did before and the sound proprio dovete riuscire a sentire ricordare i movimenti che avete fatto prima i suoni che avete messo and be so in contact that you start to move with it and sound with it and just go and just go ahead and notice what it feels to be so in contact with this experience don't control it don't lose the freedom let the sound come there you go and feel the experience and slow it slow it down even more and just find one movement that represents this quality in you just one movement that anchors there you go imagine that you are somewhere on planet earth where this energy is fully welcomed where it's fully people who are what do you notice what's different what is different Riuscite comunque a sentire la libertà? È diverso. È diverso. Io ho provato i brividi quando dopo i primi secondi. Mi sentivo molto l'energia. Questa è la magia dell'amplificare una cosa per poi ridurla e entrare veramente in contatto. Quando sei in una posizione di leadership e sei in una squadra che hai bisogno di usare questa energia, si può essere anche consapevoli di come lo si utilizza. Siamo in confondiamo con l'anarchia. Come è stato per te? Qualcun'un difference? per noi non stavo, perché è stato diverso e cosa è vero di più connessione sì, è vero connessione con sì no, proprio connessione connessione è più di una sensazione team sì, è una personal connection connessione personale connessione di vita come se ti fassi qualcosa come se non è adesso ma abbiamo racconto so this is what I would encourage you to practice in the morning individually, it's up to you but if you really want to access this energy this is how you do it questo è ciò che mi ha già fatto è la mattina that's it andate in vino in casa per casa prende la tentola oh no oh no that's right anything that helps to amplify it and then reduce it without losing the energy the contact qualunque cosa che serve per amplificare l'energia e poi ridinazionarla senza perdere il contatto thank you ok next group we'll have a break ok so the same thing notice the impact ok same thing and try to open your experience e cercate di espandere l'esperienza ok ok so welcome any comments about how are you about to represent it or quindi prima la luce poi l'altra va bene we are all yours wow just notice the impact wow thank you first time I see something after years of doing this exercise first time I noticed something new the one that I face this faccio fare questo tipo di esercizio per la prima volta ho visto qualcosa di nuovo yeah very interesting so what did you notice the first time quindi cosa avete notato la prima volta nella prima rappresentazione la presentazione caricare l'unito co-ordinazione 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 la presa la compostezza la caricare l'energia la ruptura la ruptura no did you feel even though it was quite did you feel unsafe on the first one anche se era qualcosa di un impatto vi siete sentiti non al sicuro no no did you feel some sort of power coming through avete avvertito un potere una potenza una puerta una puerta una puerta una puerta yeah I thought so as well it was very interesting what they did è stato molto interessante quello che hanno fatto it reminded me of the samurai mi ha ricordato un po' i samurai in this training when we work with power we teach to respect the opponent quando insegniamo sulla potere sulla potenza no insegniamo sempre di rispettare l'avversario yeah so there was something about the way you were looking e quindi c'era proprio qualcosa nei tuoi sguardi that I felt in opposition a bit che ho avvertito leggermente in opposizione but I felt respected as an opponent ma non sono solitamente rispettata nonostante fossi dall'altra parte so that was very interesting now the second part what did you notice nella seconda parte cosa avete notato i disordi nell'analchia disordi anger conflitto a lot of conflict tra poco dolore too much now there was quando i guerrieri perdono la strategia no prima erano un corpo unico quindi potevano fare un buon lavoro tutti insieme invece dopo un buon lavoro proprio un buon lavoro did you notice so this is one thing that is the first time I see the theory visually ed è infatti la prima volta che vedo la teoria proprio visivamente an aspect of the theory anyway o meno un aspetto della teoria quindi nella prima rappresentazione qual è il loro mondo fisico ma ci stavano guardando no what was different between the physical situation from the first one and the second one e qual è la differenza della situazione fisica tra le due la presentazione non ci guardavano più lo viettivano that's right they were looking at the inside stavano guardando verso l'interno could you see they couldn't see us anymore they were fighting for what non ci vedevano più stavano combattendo ma per cosa è un tradimento prima erano uniti e dopo non ci danno this is exactly the shadow it was very interesting the way you did it it's just amazing the shadow the biggest shadow of the warrior they no longer see the world e questa è l'opera maggiore del guerriero non vede più il mondo they don't see relationships non vede più le relazioni they are only into fighting ma è solo concentrato a combattere yeah and so at the end they end up killing for killing e quindi alla fine finiscono per uccidere per poter uccidere yeah so I thought it was very interesting how was it for you to do the first and the second per voi come è stata la prima la prima devo dire che nel silenzio che si è creato io ho sentito veramente arrivare una forza comune cioè mi sentivo parte di tutto è stato un tempo molto efficace come una specie di carica energetica no è stato molto bello molto intenso nel secondo mi sono completamente persa totalmente sì sì non sapevo neanche di guardare non sapevo quasi neanche dove fosse you didn't have a sense of purpose anymore non c'era più proprio lo scopo esattamente c'era questo senso di pervenzione quindi con voi faremo qualcosa di diverso ok so we are going to go back into the circle looking at each other quindi mi chiedete di formare il cerchio guardate ok so I'm going to invite you to remember what it was to lose contact and to just be into this fight that has no purpose quindi ricordatevi ciò che avete provato quando avete perso il contatto e vi siete rivolto solo verso l'interno senza alcuno scolo now the difference is we are going to slow it down ora la differenza è che ralenteremo tutto ok so I'm going to invite you to really notice the contact with your body and the power even though you are in this position quindi vi invito davvero a avvertire il contatto con il vostro corpo il potere no in questo anche se siete in questa posizione so I'm just going to simply invite you to slow it down and really feel what it feels like to be fighting in this way quindi ralentate il tutto e cercate davvero di sentire che cosa si prova nel combattere in questo modo and we may surprise and we may surprise ourselves e forse resteremo tutti un po' surprised ok and just notice what happens when we slow it down e osservate cosa accade quando si lamenta il tutto ok so take a moment to connect prendete un attimo per connettere with that sense of power that has no purpose con quel senso di potere che però non ha alcuno spoco and just see if you can start to recreate the movement that you were doing before and the sound but be very in contact so whenever you are ready just to start to move to make the sound you need to start a muoverli a mettere i suoni be very cautious slow it down even more you are doing great and be very conscious of who do you move towards that's it reduce the sound there you go notice your boundaries slow it down and be authentic with yourself what did you notice I'm sure it was more uncomfortable but also was different what did you notice it was tiring but what was different or surprising about it even though it was difficult I know it was difficult you did great so che era stato difficile siete stati grandiosi però che cos'è che era proprio diverso molto forte can you just ok ok e bruciavano ieri ieri burned burned molto forte you could feel the power sentire proprio il potere but there is a bit of that but there were some moments I don't know if people know this there were some moments where I was really conscious of my tension with you could you feel it with some people then you have just one moment where you felt the relationship conflict ma non avete anche questo lato anche questo lato perché sto facendo perché sto facendo perché c'è la cosa all'inizio quando siamo chiusi in cerchio io ho sentito Paola si Paola che è Paola quando si apriano in quel movimento l'amore è totalmente scomparsa ma non è scomparsa ma sì era un po' difficile da dire cos'è che ci spingeva questa questa è un why infatti mi chiedono ma perché devo spingeva ma non voglio mi chiedere la cosa so I'm gonna explain why before but before I'm gonna ask them but I'm gonna tell you why this is so important for a warrior to develop vi spiegherò perché questo è importante da sviluppare per un guerriero lo so che è scomodo ma c'è un perché ve lo spiegherò ma è molto importante what did you notice però prima chiediamo allora what changed era innaturale è un'unità che è innaturale sembra come se la velocità portasse le persone a uccidersi mentre la lentezza rientra l'idea a ragionare meglio consapevolezza sì ti sento che lentamente a해요 when they did it rascamente when they slowed down there was no sense in the world in the region senseless or as well either very quick they were just fighting against each other there was more awareness La energia prima andava dappertutto e adesso c'era una rintante direzione di energia. A me aveva un certo punto sentito che erano arrabbiati con loro stessi questo tipo, questa è stata la sensazione di yogurt. In questo caso ho sentito che erano arrabbiati con loro stessi e non. Una rabbia era loro la rabbia che non c'entrava poi e veniva dal percorso all'esterno. Io ho sentito un aspetto positivo rispetto a prima, come se tenessero ancora presente lo scopo, l'obiettivo. Io ho potuto notare meglio che l'effetto della violenza sono di singolo poco. L'effetto della violenza sono di singolo poco. L'effetto della violenza sono di singolo poco. domani vedremo di più come lavorare con i conflitti e risolvere i conflitti. Perché è molto importante. ma l'arte del processo appunto guarda verso il conflitto. E' come se il conflitto va in cerca della soluzione. E il conflitto non è che avviene così tanto per. Ok? Now, warriors, people that are amazones and warriors, if they work well with their energy, yeah, they are good at conflict. I guerrieri accionisti lavorano bene con la propria energia, sono bravi nel momento del conflitto. Approntano bene il conflitto. When you have a conflict with somebody, it only gets bigger. if you run towards it. If you run towards it. Yeah. Then it gets bigger. Because I don't feel myself anymore. All the energy takes you over. When you slow it down. I know I'm coming into a conflict. And I know that I am vulnerable and that I'm afraid. And I know that I have an opponent in front. And I know that I can hurt them. And I know that I can hurt them. This is how you learn to have conflict with honor. But you need to slow it down. If you run away from it. If you run towards it. If you run towards it. If you lose yourself on the way. You no longer feel your fear. And you no longer feel your feelings. You remember I told you. Warriors. The shadows. They don't feel their feelings. And you're decinati più a sentire i tuoi sentimenti. And you need to learn to pull yourself into this tension and understand how to work with it. So that's why it was uncomfortable but there was something where it forces you to be more aware that I'm going to do this to you. You are more aware of the way you impact people. You are more aware of the way you impact people. So it doesn't surprise me there are so many of you wanting to learn. And it doesn't surprise me there are so many of you wanting to learn. Most of us have forgotten how to fight with honor. We are either terrified of conflict or we are addicted to it. Yeah. So this is why I wanted you to see the slowing down. That you could feel that contact. Yeah. And that's why I wanted you to feel that contact. What would be the movement that is not taking you but you are with it. Just notice what it is to do this with each other. If we were to do that. Okay. Do you see the difference? Do you see the difference? Yeah. If we really sustain the tension then something new can come. It's not about killing each other. It's about sustaining the differences. Okay. So if you want to try we'll do one more minute. Try with a pair. Yeah. And you just notice. Just notice. Let them practice for one minute. Yeah. So find a person in front of you. Yeah. And then just take a moment to close your eyes. And just feel, call forth the warrior in you. Yeah. And just notice where the power is situated in your body. And very slowly make contact. I contact with the other person. And make a movement that represents power in relationship. And just simply take a few seconds to sustain. each other's power without running away from it. Prendete qualche secondo per sostenere. Sostenervi a vicenda senza scappare. And find the right tension between the two of you. E provate la giusta tensione anche tra i due. The right tension. Just feel the power in your body and the power of the other side. e sentite il potere nel vostro corpo e nel corpo dell'altro respirate sentite il tutto dalla punta dei piedi fino alla testa e poi lentamente ritornate nel vostro spazio onorando il vostro wow a bit better yeah how was that? a bit better? feel it? all that power you know thank you so we are going to yes oh yes your homework yes so yes sorry homework I always give homework to people yeah? so now it's difficult to practice this with a person if you don't have a person that wants to do it but it's very good in the mornings the same or at night never during the day during the day you are lost you need to access it in the mornings or at night so you need to find you can do it with the wall for me this is not very satisfying but for some people it is so that's one thing that you can do the other thing that you can do is you need to find an object in your house or or you need to find an object in your house every morning a different object 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 I do this when I was developing my ability to I used to do this yeah so you every morning for five minutes you look at the object and you imagine your worst opponent and you connect with your power and what would be the movement now remember to look at your opponent don't get lost it's not about winning it's about bright tension and then slowly you come back to yourself and you do it a few times until you find right tension now I usually like finding things that I can put pressure on that's me but sometimes it's good to find something that you can grab follow your natural impulse and if you practice I can assure you this with this kind of repatterning it's so powerful if you practice for a week every day for five minutes when you go towards your day you will not be able to forget this energy so easily so when a conflict happens slowly you are going to start to feel you have another option you are going to be able to stand in the conflict and hold the tension a little bit better slowly this is the beginning of holding fire warriors are good at holding fire thank you so let's do one more and then we have a break but I would love to do one more if that's okay is that okay so who am missing great good kings and good queens okay so same thing notice the impact so that we can give them feedback where is the bells what did I do with my bells oh here okay so so I know so I know it's afternoon and we're starting to get tired and we need a break but I want but I want us to sustain the energy because these are the moments where we learn to sustain but we learn to sustain the energy because these are the moments in which we learn to sustain okay anything you need to tell us before you begin? do you have to tell us something? great good okay the space is yours thank you give me a minute let me just begin I have to tell you that tell me if we have to serve the numbers in which we feel Wow, how interesting. Che interessante! Wow, thank you. How interesting, thank you so much. Interessante. Very interesting. So, there were a couple of things that were very interesting about the archetype. It was fascinating. What did you notice? What did you notice? I don't think I was. 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 One that I was. One that I was able to do the power, and one that I was super-sorvegliava. In a way, I was able to control the consensus. Very, very interesting. Very interesting. So, there is one thing I didn't tell you about every archetype. Cioè, around the shadows. So, one of the shadows of the great king or the great queen. So, when they come together. It's difficult to collaborate. It's difficult to collaborate. Yeah. That's why I'm not surprised when you told me you did your independent thing. Ecco perché non mi sono sorpresa quando mi avete detto abbiamo lavorato in maniera insieme, in internet. So, there's many chiefs together. Perché abbiamo tanti campi insieme. There is no Indians. Eh, non ci sono indiani. Yeah. So, that's one of the shadows. And this is one of the shadows. Of the good king and the good queen. The good king. It's collaboration. Appunto, la collaborazione. So, it's very interesting that many positions of leadership in the world at the moment are struggling to collaborate. e quindi quello che vediamo nel mondo e come tante leadership oggi nel mondo fanno fatica a collaborare. There was something that was also very about the light, the light side of it. I don't know if you saw it. Ma c'era anche un altro aspetto riguardo alla luce. Non so se l'avete notato. In fact, a pravivenza. Se va a lui. Perché mangiavano. Perfetto. There was something else. C'era un'altra cosa. They all did it. L'hanno fatto tutti. All of them. Tutti. So, these characters have contact between them. Questi personaggi avevano un contatto, no? C'era un rapporto, una relazione. Hanno tutti creato una relazione. Si stavano guardando. Si stavano guardando. E lui che cosa rappresenciava? Super controllore. Era assolutamente presente rispetto a tutto ciò che stava accadendo. So, you had one side that was like this. Him. It happened like this. Lui, in questa posizione. And there was one side that was like this. E poi c'era la legislazione che era in questo senso. It's very subtle. Yeah? Quindi è molto suddola la cosa. So, the light side of the good aspect of leadership. Good kings and good queens that are organizational. conversational. Quindi l'aspetto positivo dei bra di re e regina è il fatto che hanno questo senso dell'organizzazione. Is that they are able to organize and to be very grounded inside their house and outside their house. Quindi sono in grado, molto in grado di essere, di saper organizzare bene sia in casa che anche fuori. And there was one other thing. The quality of this energy. Did you notice the difference to the quality? È la qualità dell'energia. Avete notato una differenza nella qualità? Did you feel the rhythm? Avete sentito il ritmo? Avete sentito il ritmo? Do you feel the rhythm? Eh? Avete sentito il ritmo? It was the earth. Era la terra. It was coming through. Yeah? Arrivava proprio. Parevo subtle. Era un po' suddo insomma. How was it for you to do it? How was it? Per voi come stava? How was it that I learned the good? Come era la dinamica nel corpo. come hai detto tu siccome noi eravamo tutti i re non abbiamo neanche pensato all'inizio di fare una cosa tutti insieme tutti eravamo tutti i re e allora abbiamo cominciato subito con un movimento individuale mentre gli altri un movimento stefano hanno cominciato con un movimento di gruppo noi all'inizio abbiamo detto no almeno si fa il movimento suo individuale abbiamo cercato di fare un processo di giro e allora poi è stato anche difficile trovare qualcosa che tenesse insieme tutti i re e io ho già cercato dentro la mia postura sia la luce poi dopo perché quando anche l'uomo nella postura con cammina ci può essere sia la luce comunque il contatto ci può essere anche l'uomo beautiful that was for you let's hear, I want to hear from all of them voglio sentire l'alluno in vivo io è proprio come detto tu mi si è chiarito quando tu hai detto quella cosa perché in effetti non riuscivo a trovare un punto di contatto con lui mentre stavamo lavorando insieme sentivo che eravamo su due mondi comunque diversi e allora poi qui questa cosa mi ha anche un po' sentivo la rabbia di lui che non capiva e io che non capivo lui that's right there is this how do you how do two kings or two queens share a throne appunto come fanno due re o due retini a condividere un trono yeah that's why parents struggle to share the power of the house ecco perché i genitori fanno fatica nella condividere il potere di casa and it's complicated and it's complicated so it's beautiful I am so pleased it came through that challenge come piaciuta che questa sfida sia venuta fuori it's a very lonely position this role it's a very lonely role questo ruolo è un ruolo molto solidario so it's very complicated molto complicato io trovo la difficoltà di seguire l'ordine dell'ordine dell'uomo e proprio la difficoltà di stare nella posizione della terra e mi senti perché sentivo proprio la gabbia come se questo ruolo fosse effettivamente una chiusura io devo dire che la difficoltà principale che ho trovato soprattutto quando abbiamo iniziato la dinamica è stata quella di canalizzare qualcosa attraverso il movimento fisico cioè il gesto allora l'unica cosa che trovavo più o più fine alla mia caratteristica è quella appunto di camminare perché questa cosa l'associo diciamo alla situazione mentale quindi l'elaborazione che però intendo come all'origine della capacità di pianificare, di governare i processi e però allo stesso tempo ci vediamo una luce e un'opera nel senso che questo processo è indispensabile per saper governare però può rischiare di diventare talmente autoreferenziale che si chiude in se stesso e quindi non ha solo la nuova di concreto e quindi per me quella era contemporaneamente anche l'aspetto negativo del positivo quindi thank you sì, infatti tante cose che sono successe nel processo adesso in particolare stavamo facendo questa linea dritta a un certo punto ho pensato chissà che fanno gli altri non ho detto non mi interessa la cosa da fare da fare la mia linea dritta se la stanno provando da soli e quindi c'è il mio compito e che a un certo punto ho trovato anche cioè una linea dritta immagino da vedere non sarà particolarmente interessante però tocca fare, facciamo e poi c'è stato un momento di piacere vero quando abbiamo raccorto il frutto io me ne ero anche dimenticato mi ha fatto arrivare lui e invece poi è stato un momento di vero piacere quando me la ok, interessante, grazie sì, è un'implicità, un modo di dire a parlare di essere il king perché stiamo a creare le mie ma è un'implicità e questo il giallo è un'implicità è quello di uno che deve provare questo il giallo è quello di uno che deve provare per personal development, per esplorare per idea questo è un giallo è quello che deve provare questo è il ruolo che fornisce il contenitore un luogo sicuro in cui poteste inventare e come se ci fosse una critica per il fatto che non è un ruolo abbastanza entusiasmante e questo ruolo è fondamentale perché per esempio se non si offre un ottimo ambiente per i propri figli ci stiamo avrando problemi, no? è stato molto più difficile il silenzio sapevano che cosa stavano facendo, avevano tutto senso e l'hanno fatto in silenzio quindi questo è quello che stiamo lavorando quindi voglio invito a tutti a prendere il vostro spazio qui in questo ruolo forget about everybody else si, find il vostro spazio and take a moment to close your eyes and forget about everybody else and for a minute immaginate che intorno a voi immaginate il vostro regno personale tutto il vostro ambiente personale, individuale and make sure that it's as big as it needs to be and make sure that it's as big as it needs to be and just everybody else just notice as well you can also do this exercise if you want just close your eyes and you can also notice it è un esercizio che potete fare tutti in realtà qui per sempre chiudere gli occhi e visualizzare proprio dentro e come prendete il vostro inbreath e il vostro outbreath è normale che inspirate ed espirate permettete al vostro corpo alla vostra pelle proprio di allargarsi diventare grande tanto quanto è grande il vostro regno e permettete al vostro corpo di adattarsi anche tramite il movimento delle braccia occupate tutto lo spazio di cui avete bisogno per immedesinarvi con il vostro regno allargare le braccia allargare il pezzo you may want to put your book in the floor if you want se vuoi appoggiate il quadernino per terra and let your body really get big e permettete al corpo di grandirsi and as you do that imagine that you have roots that go down into the earth and really notice how big your body can get e osservate e osservate quanto può diventare grande il vostro corpo feeling the roots in the ground in la bici nel terreno and giving yourself the right to occupy all the space that you need dandovi un diritto di occupare tutto lo spazio necessario and slowly allow a simple movement with your arms that represents the most important quality for you of this archetype what is the quality that you really want to feel grab direct what is the quality that you really want to and imagine an aspect of your life that needs this quality and very slowly take a few steps in this posture and walk towards that part of your life and evidentemente fate un paio di passi verso questa qualità nella vostra vita con la convinzione con la consapevolezza di essere re con il figlio e just for a minute immaginate che you know perfettamente what to do quando farlo quattro farlo how to do it quattro farlo come 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 farlo And slowly from this place open your eyes and orient, look around and notice people from this place. Notice if the world feels more in order. Thank you. And I'm just gonna just go around. I'm gonna ask you better, worse or the same than before. Better, worse or the same? Did you notice now the energy of this archetype? What did you notice? More proud of this. That's right. What else? What else? What else? Chiairezza. Eh? Chiairezza. A me sembrava vedere come se ci fosse una direzione. Magari non erano coordinati, però ciascuno aveva già un obitivo. Per cui mi viene a costumire, indicare, scorgere. That's right. Ciascuno. Magari non c'è il prestigio. Ciascuno. 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 Il fatto di riuscire ad avere un senso più accogliente, a parte di sapere la direzione ambientale e dove mettere le cose, un buon re e una regina sa come creare un ambiente accogliente, riche per la crescita e per la vita. Un buon re e una regina si assicurano di avere un terreno pronto per poter costruire una città e rificare una città. Io l'ho sentito adesso. Quindi è un potere molto attivo, non è il tempo, la regina o il re. Se si vanno troppo velocemente non possono organizzare. E' un tempo più calentato, closer to the drum of the earth. If you are an artist, this tempo, it may be difficult sometimes. So it's good to practice a deeper tempo. Quindi è un buono fascia. Slower tempo. Do you all tend to be sometimes very fast people? Tendete a avere le persone più rapide e veloci. Do you tend to? Or to do many things at the same time. Or to do many things at the same time. You're less. So you are closer to this. I can see it in you, but there is something about grounding it and sustaining it. And in your case, how, what's your natural, yeah, slow. So I could see for you it was easier to access it. Did you notice a difference, though, when you really were present with it? There was a difference when you were present with it. Yeah, I thought we were in control. So the exercise for you guys, the key to this exercise is to make sure that your kingdom is around you. A good king or a good queen does not apologize for occupying the space. Un buon regina, una regina, non chiede scusa, perché occupa. They don't go, oh, you're sorry. Non chiede, oh, scusa, mi dispiace, scusa. They go, no, lo fanno. They can hold the space. Possono ottenere, prendere il spazio. So that's a very important part of this exercise. And that you feel, if you usually tighten your space to be unseen, se siete abituati a essere più stretti nel vostro spazio e a non essere visti, you need to widen your space. So sometimes for people that need to develop this archetype, it's more about being more seen. which I think is maybe they really come and they go, and some people say, oh, and they say, oh. And some people say, oh, and they say, oh. So this is a part of this archetype. So in the mornings, think about how big my kingdom is this morning, energetically. Da mattina devo pensare, quanto è grave il mio oremio. Do I feel like this then? Se mi sento così, allora, ecco, 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 ecco. And we are going to come back and do the last. The last group, and we still have a bit of time, yeah, where I'm going to take this into the relationship channel, we are going to work a little bit the last 45 minutes of the day with communication skills. Allora, quindi facciamo una pausa di 15 minuti, poi torniamo, facciamo l'ultimo gruppo, e poi abbiamo circa 45 minuti per lavorare anche nel canale e nelle relazioni. So we go from the I, e quindi nella capacità comunicative, lavoreremo dalla vista to this now. We are going to start to move it into the relationship channel, so that later, tomorrow, on the day after, we can go into the we. Quindi possiamo entrare fino adesso nel canale e nelle relazioni, così poi domani lavoriamo nel noi. And just one last thing to say, some of you will feel very tired after this work. Eh, voglio dire, cioè, è chiaro che forse molti si sentiranno stanchi, molto stanchi dopo questo lavoro. The reason why is because this work moves a lot of energy. Però c'è un motivo, questo tipo di lavoro richiede tanta energia. And it's like going to the gym. È come andare in palestra. Yeah, it's learning to use more horses. È imparare proprio a usare più cavalli. Yeah, so you bring in more horses and it's tiring. È chiaramente spancante, quindi è normale. It looks small, but it's quite a lot. Sembra un piccolo lavoro, ma in realtà stiamo facendo tanto. So we have a break, 15 minutes, and I see you back in 15 minutes have a coffee, a cigarette, a pee, anything. Allora, voglio dare la stessa... La stessa attenzione... Diamo la stessa attenzione all'ultimo gruppo. And then after that, we are going to go straight into a non-verbal communication exercise where everybody is going to participate. E poi entreremo direttamente in un esercizio non-verbal, in cui tutti devono partecipare. Because it's going to be the bridge into tomorrow. Perché è proprio il ponte che andiamo a creare nella giornata di domani. Tomorrow I will talk about communication skills and conflict. E domani parlerò appunto delle abilità nella comunicazione e nel conflitto. Ok? So, welcome! Benvenuti! So, is there anything you would like to communicate to us before you take the stage? Volete dirci qualcosa prima di iniziare? No, solo le c'erano quelle che stanno fatta avanti. So, the stage is yours. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I think I have never seen this archetype represented like this, ever. Perché tipo l'ha presentato così. I'm like really amazed. It was perfect. Because it's the first time you come to Italy. That's right. It was perfect. Wow, how interesting. So let me ask first the audience. Ah, chiediamo prima al pubblico e poi chiedo a voi. So what did you notice? What did you notice that you liked? What did you notice that you went? What qualities came through? Qualità vi sono arrivate? Accoglienza. Accoglienza. Reception. Un tipo di morbidezza. Un tipo di morbidezza. A pleasant kind of softness. That's right. It was a bit morbid, wasn't it? Like pleasant. It's a fine line. And a line molto sottile. Volersi liberare di una cosa che ami, però pesante. Dunque la lanci e ne vuoi gli spara. The fact that you want to get rid of something that you do love and appreciate, but it's way too much and you want to kind of get rid of it. There was something of that. I don't see that. I thought that was interesting. La felicità che diventa follia. È un fascin' del dolore. Troppo è un fascin' del dolore. Drama, è un drama. Un drama. Yeah, that's right. So you can see... È molto mamma. È molto spazio per la mamma. E a un certo punto il maschio sembrava un certo spazio, perché è una roba di mamma. È una roba di mamma. È fantastico. È fantastico. Perché you had, I think for me, it was such an organic way to bring in the shadow and the light. It's such a fine line and you kept swinging from one to the other. Siccome la linea è molto sottile tra l'ombra e la luce, siete riusciti a farlo proprio entrando e uscendo praticamente. Sicuramente. È beautiful. There is a particular quality that I also kept in my pocket that came through. E c'è anche una qualità di cui non vi ho parlato, ottenuto per me, che però si è palesato. Before I tell you, how was it for you? Ma prima di dirvi qual è questa qualità, voglio chiedere a voi come è stato. Personalmente ho avvertito, probabilmente quello che è il senso continuo di me del gettore, che volerà tutti i costi, la felicità del figlio, della cosa cara, insomma, no? Qualsiasi posto. Anche arrivando all'esaspirazione. Also in the edge of desperation, yeah, this kind of, but a little bit desperate. Quindi anche nel limite della disperazione. Come avete rappresentato proprio il modo in cui le emozioni ti portano prima da una parte, poi da un'altra. È davvero eccellente. Perché da una parte è un dono di questo archetipo. This archetype is not afraid to feel the world. Questo archetipo non ha paura di sentire il mondo. So it feels joy, deeply. Quindi sente la gioia proprio nel profondo. And it feels pain, deeply. E sente anche il dolore nel profondo. And that's very, that is a gift. E questo è un dono. But the dark side is that emotions take over. Ma il lato oscuro è che poi le emozioni hanno il sopravvento. Do you see what I mean? And you can no longer choose. E non si può più scegliere. Because you are like one moment very happy. Perché in un momento si è felicissimi. The next moment very quickly you are depressed. E poi il momento dopo rapidamente si è depressi. Yeah? So that's, it's a fine line, isn't it? Sì, volevo aggiungere una cosa che casualmente ci siamo ritrovati ad essere in tre. Mentre inizialmente il gruppo era il gruppo e il gruppo era il gruppo. E anche adesso ho sentito questa chiusura. Le emozioni che riguardava solo noi. E non il resto non che era poco. So, yeah, it was beautiful. There was something so beautiful about it. What did you, how was it for you? Ero felice per la passeggiata. E mi sono sentito veramente anguasciato. Quando ero parolicato dalla preoccupazione di tutto, non sapevo più che cosa fare. E questo l'ho vissuto, non c'è la mente. You felt it, huh? You felt the English. I'm not knowing what to do with it. So he might talk about this. In the first moment of the actual anguish that he felt, literally. Because he didn't know what to do anymore. That's right, because this archetype deeply cares about the world. Perché quest'archetipo ha una cura, a cuore profondamente il mondo. So I saw it in you. I saw the shift. E l'ho visto in te. Ho visto proprio il cambiamento, no? So it really cares. And when somebody's in pain, E quando qualcuno sta soffrendo, Then you care so much, you almost feel desperate. Quella persona talmente a cuore che raggiungi quasi la disperazione. Because their pain becomes yours. Perché il loro, il suo dolore diventa il tuo. So it's really beautiful. Now, it was one thing. Yeah? All'inizio sembrava anche un po' un film del dolore. E poi, un'altra cosa è che, nel momento del dramma, il dolore diventavano quasi egoisti, ognuno nel proprio dolore, un po' come il re, erano da soli alla fine nel proprio dolore. A parte lui che cercava un po' di... Però, ho sentito molto questa cosa, il dolore che chi beva. That's right. What happens is that one of the dark sides of this archetype is that you become your... How do you say? You look at your own belly button all the time. Uno degli aspetti oscuri, no? È il fatto che guardi sempre il tuo ombelico. Oh, I'm not feeling well. Oh, this, oh, that, oh, that, oh, yeah. So you stop doing this. E quindi non fai più questo, no? Having said that, this archetype can also do this. Ci ho detto, questo archetype può fare questo. The problem is that, because it fills the world so much, poiché sente così tanto il mondo, it can feel alone in the pain amongst the community. Può sentirsi poi solo questo dolore, anche se dentro la comunità. Yeah. No, just a question. Una domanda, cioè, quel passaggio che hai fatto tutta lo view e il light, no? In quel ponte, l'impressione che io ho, che tutti questi archetypi vengono enfatizzati, cioè, dividiti, cioè, dividiti, cioè, inizia a capire contemporaneamente in superficie 1, in superficie 1, in superficie 2, in superficie 1, un lavoro per poi arrivare a integrare tutti e 4 gli architetti di intercorsatori. Yes. Non è più. Yes, we are going to do that. No. In effetti faremo esattamente questo. We are going to do that, yes. But the problem, the reason why I slow it all down, and I don't run to integration, è il motivo per cui rallento un po' tutto e non mi affretto verso l'integrazione. It's because we run to solutions and integration very quickly. E perché tendiamo proprio a correre rapidamente verso le soluzioni e l'integrazione. And so you know, we no longer, when we run, we no longer understand the steps. E quando corriamo non riusciamo più a vedere i passi singoli. And then we get to a temporary resolution that lasts one minute. E poi raggiungiamo una soluzione temporanea in realtà che dura un minuto. Yeah. One minute. Un minuto. It's very quick. È rapido. And it doesn't sustain. E in realtà non dà alcun sostegno. E poi a quel punto ho bisogno di una sorta di qualcosa a cui affigliarmi, no? Di pendenza per poterlo sostenere e poi riportare quel senso di integrazione. E' per questo che questo metodo rallenta il processo di apprendimento. Perché voglio che riusciate davvero ad avere una sensazione profonda, di comprenderlo appieno in modo tale che poi non perdiate questa sensazione. Voglio che riusciate a coglierlo sia tramite il canale visivo, il canale sensoriale, quello cinestetico, quello verbale e tramite quello relazionale. Desidero che abbiate proprio lo spettro totale. E quindi faremo un esercizio che intreccia poi tutti i vettori. Ecco una cosa di questo archetipo che voglio condividere, non so se l'avete notato. Questo archetipo è l'archetipo che sa come innamorarsi. Non ha paura di innamorarsi. Noi vi siete sentiti almeno per un attimo innamorati di loro quando erano qui. Non avete sentito questo senso di innamoramento. e quindi sentite l'energia. Jenny, sentite l'energia, come una sorta di elazione, di persone che avevano un po' di amico in l'aria? Era un po' diabetico per me, ma sì. Diabetico? Era un po' diabetico in realtà, era tipo un po' di zuccherino. No, descrivi diabetico. Tanto dolce che è disgustoso. Quindi quest'archetipo non ha paura di innamorarsi. Il problema con l'archetipo è che l'ombra dell'innamorarsi è che l'innamorarsi è una sorta di trance. e c'è qualcosa un po' di sticchia, che è il sentito diabetico che hai, Jenny. E dà effettivamente qualcosa in senso di appiccicoso. È come quando mi innamoro di una persona. Non è sostenibile a lungo termine. In essenza può anche esserlo, però come stile è un po' appiccicoso. Ora faremo qualcosa di molto entusiasmante. Ho bisogno di quattro o cinque persone che proprio hanno bisogno di ricevere amore. E vogliono sedersi qui su questo tappeto. Ora il vostro compito. È molto semplice. Ma richiede anche ciò che abbiamo fatto prima, rallentare tutto. Faremo due improvvisazioni. La prima sarà rapida, molto veloce. Ve lo mostro prima. So I'm going to simply walk around this group. Cammino intorno al gruppo. And I'm going to feel if there is a space for me to connect with them. E camminando intorno al gruppo devo riuscire a sentire, ad avvertire se c'è uno spazio dove posso entrare e connettermi con loro. Qui avverto di più uno spazio. E di qua invece l'ho sentito di meno. Quindi non dovete imporre la vostra attenzione, ma dovete trovare uno spazio dove la vostra attenzione è richiesta. Perché questa è proprio la chiave di questo archetipo. Di non forzare, imporre amore e attenzione. Ma di trovare il posto dove è richiesto, dove è necessario. E poi quando trovate energeticamente questo spazio All you're going to do is slowly get close and you are going to feel the energy. I'm going to feel it. Look, I'm already here if I get a bit closer to Melania's in my bite man. Lo sentite proprio. Si riesce a sentire questa energia. Basta avvicinarsi un po'. This is as much as I'm allowed to give. Questo è... Probably even a bit further away. Forse addirittura mi riesco avvicinare neanche più di questo. It's just... I won't take it personal. Non lo prendo come qualcosa di personale. That's the key to this archetype. Questa è la chiave. So all I want you to do is to find just a moment of this. Where you find... And you may... With somebody you may feel you can come... Yeah, that's probably as much as I would go in. Io non mi avvicinerei più di questo, per esempio. Yeah, okay. So that's all we're going to do. And just notice what happens to you when a space is respected. Osservate che cosa accade è quando lo spazio viene rispettato. But it's your gift. But at the right level, at the right amount, you respect. Quindi si tratta di dare... You don't force it. Ma di dare la giusta quantità dello giusto spazio e senza imporlo. And there is no right or wrong way. Don't take the feedback. No feedback. Any feedback is good feedback. Non c'è un modo giusto o sbagliato. Il feedback è tutto... Va bene tutto. Quindi non vi sentite giudicati. Just watch the signals. So you see the body going in. then just play with giving without intrusion. Osservate i segnali. Se il corpo non si chiude in se stesso, se si... No? Enjoy giving. Ma godetevi il piacere di dare. Okay? So take a moment to close your eyes. Vedete un momento per chiudere gli occhi. And the people in the middle just be who you are and just let yourselves be there. e voi qui siate voi stessi tranquillamente. And those that are working and exploring the archetype of the great mother, the great liver. E chi sta esplorando l'archetipo della grande madre, del grande donatore. Focus on a part of your body where love, the experience of love and care lives. ritrovate un punto nel vostro corpo dove questa esperienza dell'amore ha il suo centro. And see for a moment you can make contact with that part of yourself. E cercate di entrare in contatto con questa parte di voi. With your hand you may want to touch that part of your body. Forse vorrete anche toccare quella parte del vostro corpo. E poi lentamente iniziate a girare in cerchio. And notice if there is a space anywhere to offer some of that energy and how far. And those in the middle keep your eyes closed. Voi al centro tenete gli occhi chiusi or open is up to you. O aperti, dipende da voi. And notice how it is to be the center. E notate come che cosa vuol dire essere il centro. And how does it feel to receive and what's right for you. E che cosa si prova a ricevere e che cosa è giusto per voi. and those that are giving really use your senses. Voi che stai dando usate i sensi. Feel yourself and trust your feeling. Sentite dentro di voi e abbiate fiducia anche nei vostri sentimenti. At the same time that you are attentive to the feedback. Nel momento stesso in cui appunto state cogliete questo feedback. and slowly find one point E poi lentamente trovate un posto, un punto dove rimanete fermi. E da quel punto poi continuate ad offrire. Ora voglio controllare con ognuno di voi. Come si controlla la gruppa? Come si controlla la gruppa? Come si controlla la gruppa? È buona o è troppo vicina? È troppo vicina? Potrebbe essere anche di più. Bene, adesso lo vediamo. E poi invece, come è per te? Un po' distante. Distante. Quindi dove dovrebbe cambiare? Un po' più... Un po' più abbraccio. Un po' più. Più abbraccio. Ancora di più, di meno? e abbiamo un contatto that's positive feedback so, over here Melania, how does it feel? too much? no, that's fine that's how that will say no if it would improve what would need to happen for you? per migliorare che cosa dovrebbe accadere so, try to get your hand a little bit out from her energy danna la mano, danna il suo campo l'energia better works or the same Melania? Melania, è meglio lo stesso per te come stato dare in questo modo con tanta consapevolezza stai sorridendo ti hai avvicinato ti hai avvicinato una grande madre perché è il punto proprio di partenza deve potersi ancorare nelle capacità di essere grande madre something must have must have been good for you because I can see your face una cosa dell'avverti comunque dato soddisfazione perché si vede anche nel sorriso nella tua espressione the gig is just like that, isn't it? it's so fabulous ma cosa per te? ma vorrei tanto dire che quando mi sono avvicinata a Melania ho avuto difficoltà sì, è avvertivo conflitto nel senso che ho la sensazione che ho avuto che era la percezione della una richiesta da 10 momento però c'era una forza che non mi faceva andare oltre quindi forse non ero la persona che faceva per te ma anche pure, un pochettino mi ha ridurato ma questa è una ragione ecco ci guarda la mamma di quanto è tale si è appena è un senso di calore bella è bella la sensazione che sua richiesta di avvicinamento la possibilità di apertura cioè che mi ha aperto per potermi avvicinare a toccarla io ho molto il tatto quindi questa cosa per me è stata importante si I don't know I'm just getting to know people I work with minimal signals lavoro proprio con i segni minimali, no? con le persone e vedo proprio i due opposti in voi in questo archetipo yeah, so I'm gonna be direct with both of you quindi sarò diretta con entrambi so in your case you need to test the boundaries of giving more nel tuo caso devi testare maggiormente i confini del poter dare and in your case I think you test them too often sometimes e nel tuo caso credo che invece metti alla prova anche in troppo spesso testi troppo yeah? so both is important both ways the thing is that in order to be more whole in your giving you need to develop in your case a slower tempo and in your case a little bit more of a risky tempo e quindi entrambi sono utili bisogna trovare un po' l'equilibrio e quindi nel tuo caso trovare il giusto tempo e nel tuo caso essere un po' più calmo that's what makes sense yeah how was it for you? eh, lo stesso per quanto riguarda Mark che sentivo come un peso nelle mani che mi percavo e... mi sono confermata poco su di lei forse perché mi sentivo proprio attratta e qui proprio subito ho avuto un senso di accoccolamento e poi invece mi è venuta come una cosa creativa dovevo... non lo so come un po' giocare e... sì check with her sì pass it io ho avuto moltissimo il primo contatto e avrei voluto che rimanesse questo contatto più semplice ho sentito questa esplorazione era per me era troppo e piano piano ho sentito che mi sono un po' e poi mi sono anche un po' rigidita credo perché io volevo ritrovare che mi serviva proprio soltanto un contatto profondo il primo contatto era molto profondo caldo mi stava abbassando tutto mi abbassava quello ed era più profondo invece poi dopo era più superficiale era meno intenso per me vedete cosa succede vedete cosa succede quando si fa questo si pensa che si sta dando molto no perché non sei in contatto con il giusto dare ciò di cui l'altro ha bisogno quando lavoro con le persone solo perché una persona sta piangendo non significa che devo fare questo devo riuscire a sentire il bisogno e questo archetipo ha la capacità di sentire ciò di cui l'altro ha bisogno non salvare l'altro non vuole essere non è una questione di salvare il prossimo quindi domani quando faremo il lavoro sulla comunicazione ci sarà un piccolo esercizio che farete in coppia che sarà simile a questo perché sto cercando di intrecciare un po' il tutto attraverso i vari canali grazie è davvero potente no vedere tutto questo allora volete provare per 10 minuti una cosa un pochino più folle nel tentativo di intrecciare il tutto? allora dobbiamo togliere tutti i cuscini ci servono spazio qui centrale ok? 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 quindi questo esercizio tutti dovete lavorare allo stesso tempo quindi tutto il mondo lo faccio allo stesso tempo ok? ve lo mostro qui sulla lavagna ok? ok? lo spiego allora l'esercizio si chiama la psicologia della terra la terra conosce tutti questi vettori ok? tutti questi vettori sono tutti sulla terra quindi quindi intendo usare il corpo come una bussola ok? quindi il primo archetipo il primo archetipo nella mia bussola vado a cercare il primo archetipo nella mia bussola sto cercando il guerriero e mentre giro avverto sento che la direzione del guerriero per me è da quella parte perché se mi giro da quest'altra parte non è qui ok? mi rigiro, sento il guerriero quindi una volta che sento la direzione del guerriero devo avvertire, sentire la forza del guerriero in me e mi muovo in quella direzione e per me l'immagine è quello che riesco a vedere quando penso al guerriero immagino questo samurai che prende la sua arma e si muove e sono interessata sia all'immagine che al movimento insieme all'immagine quindi faccio il movimento un paio di volte e poi ritorno al mio punto di partenza e farò la stessa cosa però vi guiderò per ogni archetipo quindi poi vi dirò adesso tornate a girare, cercate la grande madre provate l'immagine e poi sentitela dentro di voi come si muoverebbe la grande madre quali movimenti riproducerete e poi alla fine e poi alla fine vi guiderò non vi preoccupate, vi guiderò in tutto e ti sentite e hai bisogno di farlo grande alla fine tornando al centro c'è un modo per riuscire a mettere insieme tutti questi movimenti è un po' tipo il tai chi quindi vi guiderò per riuscire a mettere insieme i movimenti che avete riprodotto singolarmente e avrete il vostro tempo personale e avrete il vostro tempo personale quando avevo lavorato con questo molto ho trovato il mio tempo e andando io l'ho ancora ricordo io l'ho ancora ricordo ho riprodotto questo è il mio tempo questo è quello che alla fine io ho elaborato e me lo ricordo ancora benissimo questo è il mio samurai con i piedi ben piantati per terra poi da qui entravo nella grande madre poi il mio re e la mia donna stranamente però era così come se esplodesse quindi dovete trovare semplicemente i movimenti nel vostro corpo e lasciarvi guidare da questi movimenti e godere anche di questi movimenti e cambiare quando facevo questi ogni mattina ho perso letteralmente peso davvero perché il mio corpo mi sono connessa col corpo e ho creato anche più muscoli è stato sorprendente ed è qualcosa che sto facendo di nuovo nella mia vita personale perché la mia vita è cambiata molto e ho bisogno di ritornare a questi movimenti e riportare perché sono in una fase di transizione e nei momenti di transizione torno nella mia posizione di default che è il controllo e quindi perdo il mio ritmo e il mio tao e i miei vari movimenti quindi è qualcosa che se riuscite a trovarlo oggi poi lo potete utilizzare è una cosa molto potente è una cosa molto potente solo a parlarne mi vengono i brividi davvero quindi vi incoraggio a seguire il vostro corpo fate movimenti ampi, piccoli in base a come vi vengono non forzate la cosa e sono vettori perché sono diverse posizioni di espressione e si chiama la psicologia della Terra perché il corpo sa, è consapevole quindi trovate uno spazio qui nella stanza dove potete muovervi liberamente e io vi guiderò nelle varie fasi try to do it slow well you do what feels right for you so find the space in the room make sure you occupy all the space sicurati di occupare tutto lo spazio di posizione della stanza e very good ok 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 so everybody close your eyes ok chiudete gli occhi and take a few deep breaths respirate profondamente feel your feet on the ground sentite i piedi radicati ben per terra e sentite come la terra vi sta sostenendo sentite la gravità del corpo che scende e va verso il basso con le ginocchia che si piegono anche leggermente e la terra vi sta sostenendo fate scendere le spalle e molto lentamente cerchiamo prima l'archetipo del guerriero quindi ruotate lentamente su voi stessi fino a quando non trovate la direzione e il corpo vi parlerà vi dirà ecco questo è il punto e per questo esercizio vi chiedo di socchiudere gli occhi di non averli completamente chiusi anche se non vedete completamente attraverso gli occhi non permettete però alla vista di di essere caffettamente certa e lentamente muovetevi nella direzione che avete individuato e trovate il movimento ci potrebbe essere anche un suono lentamente sentite il corpo mentre fai il movimento e sentite il vostro tempo trovate il guerriero, l'amazzone nel vostro corpo trovate il potere ci potrebbe essere anche un suono ad accompagnare il movimento e prima si che il movimento sia grande poi più piccolo per riuscire a catturare l'energia per riuscire a catturare l'energia per riuscire a catturare l'energia ed è importante che il corpo provi proprio soddisfazione nel movimento e poi una volta che l'avete trovato il movimento ritornate al vostro punto di partenza siate anche concentrati su quello che state facendo individualmente e adesso scuotetevi un attimo e ritornate al punto di riferimento i piedi ben saldi per terra la terra che vi sostiene qualche respiro profondo e poi tornate a girare su voi stessi e cercate la grande madre e in questo esercizio dovete sentire le emozioni, i sentimenti e quando trovate la direzione della grande madre, del grande padre allora come prima fate il movimento che esprime questa emozione lasciatevi guidare dal corpo permettete al vostro corpo di essere pieno, ripieno di questa esperienza e anche qui se c'è un suono fatelo uscire, sentite l'esperienza lasciate che sia il corpo a mostrarvi il vostro stile lasciate che sia il corpo a mostrarvi il vostro stile e poi lentamente potete ritornare al vostro punto di riferimento e scuotere il corpo e scuotere il corpo e scuotere il corpo poi il corpo appena è pronto potete iniziare di nuovo a ruotare su voi stessi e cercherete il grande re o la grande regina quindi la capacità di avere strategia, stabilità e di saper creare il giusto ambiente e di saper creare il giusto ambiente e una volta trovata la direzione cercate di visualizzare un'immagine e permettete al corpo di seguire quelle qualità il grande re, la grande regina in voi questa figura sa ciò che sa e ancora una volta fare un movimento ampio, pieno dove il corpo possa trovare soddisfazione in questo movimento anche con il suono e sentite la differenza e poi quando l'avete catturato potete tornare al punto di riferimento e scuotervi e scuotervi c'è molta energia in questo momento e poi appena pronti tornate a girare su voi stessi e permettete alla terra e al corpo di mostrarvi la direzione dello sciamano è della donna guaritrice o dell'uomo guaritore e quando trovate appunto la direzione ancora una volta cercate di visualizzare un'immagine e permettete al corpo di seguire il ritmo e potete essere un suono che viene con questo che viene con questo riuscita per la soddisfazione momentaneamente ancora una volta c'è questo è un suono ricercate questa soddisfazione sicurati di avere il ritmo sicurati di avere il ritmo in voi la qualità in voi vedete se riuscite a farla fluire nel vostro modo personale lentamente riducete il movimento mantenendo però la qualità mantenendo la fluidità e lentamente ritornate al vostro punto di riferimento potetevi focalizzate su voi stessi e ora vi inviterò nel vostro modo unico e singolare non ho intenzione di rammentarvi ciò che abbiamo fatto ma vi invito a far sì che i vostri corpi possano rammentare e permettete al vostro corpo di mostrarvi i vari movimenti e le varie qualità in modo fluido come se fluisse e non c'è un modo giusto o sbagliato provate più volte fino a quando non avvertite che è il movimento che è più fluido e sentitevi liberi di iniziare quando volete ci possono essere suoni qualunque cosa permettete al corpo di mostrarvi le esperienze chiave e se volete e se volete e se volete cercate di non compromessare i movimenti cercate di non compromettere i movimenti trovate il modo per farli proprio intrecciare e ora aggiungete la respirazione lasciate che la respirazione faccia parte anche dei movimenti e se volete potete trovare iniziando a sudare iniziando a sudare forse siete un po' stanchi se è così potete anche rallentare volendo però mantenete la fluidità accettatevi di avere ben impressi i movimenti e riusciare la sensazione giusta sui spruzioni e tenere lonti risotto e riusciare la sensazione E ora cercate di notare se il vostro corpo si sente diverso, se sente di aver bisogno di posizionarsi in maniera diversa. E vi invito adesso a camminare per la stanza con passi piccoli. E' come se nel vostro cammino riuscisse ad avvertire, sentire tutti questi movimenti. Quindi cercate di vedere se con ogni passo riuscite a riportare le qualità che avete riscoperto. E si cammina con ogni parte del corpo, con la testa, con le mani, con i piedi, le braccia. Ci può essere un passo dove sentite di dover tirar fuori quel movimento più duro, più forte. Ci può essere un altro movimento dove avvertite quel senso più morbido, più tenero. E fidatevi di questo modo di camminare. E mentre camminate, siate consapevoli l'uno dell'altro. Consapevoli del concedere spazio. E vi invito a terminare l'esercizio guardando, stando davanti ad una persona. Quindi trovate una persona. Anybody missing? C'è qualcuno? Partner? Ha bisogno? Qui? Ha qualcun altro mancare? So, for this last part of the exercise, anybody missing? You missing? So, c'è qualcun altro che è solo? No. Si? No? Nobody solo? So, Ben, I'm going to invite you to do it with these two wonderful ladies. You're going to be a group of three. Gruppo di tre. So, for this exercise, I'm going to ask you all to pull your... Come c'è di cesto? Vi chiedo di alzarvi le maniche. Yeah? If you have any watch or bracelet that you can take off easily, do it and put it in your pocket. Se è possibile, togliete orologi o braccialetti. Se riuscite a farlo rapidamente e facilmente, vi incoraggio a farlo. Any ring, anelli? Mettete in tasca, tranquillamente. Ok, so you are going to close your eyes now. Ok, chiudete gli occhi. And very slowly, you are going to rise, bring your hands up and touch the hands of the person in front of you. Only the hands. Molto lentamente, alzate le braccia e toccate solo le mani della persona davanti a voi. In the group of three, you touch the hands of those next to you. E nel gruppo di tre, toccate la mano della persona che vi sta accanto. So, just touch the hands with your eyes closed. Quindi, toccate solo le mani con gli occhi chiusi. And to begin with, just say hello through your hands. No words. E per iniziare, non usate parole, ma salutate, dite ciao solo con le mani. So, try to keep the auditory channel. And after saying hello, you are going to express the energy of your warrior to each other through your hands. Dopo esservi salutati, esprimerete sempre tramite le mani l'energia del vostro guerriero. Touching each other's hands, you are going to express in some way the energy of the warrior. Toccandovi, toccandovi le mani, in qualche modo, trovate il modo di esprimere e comunicare l'energia del vostro guerriero. And there may be a movement that starts to develop between the two of you through your hands. Forse ci sarà un movimento che inizierà a svilupparsi tra i due tramite il movimento delle mani. da guerriero a guerriero, da mazzone a da mazzone. And slowly, bring it back to completion, still touching the hands. E lentamente, ritornate alla posizione. Now you are going to express through your hands the great mother and the great father. Ora, tramite le mani, esprimerete la grande madre o il finale padre. Permettete a questo archetipo di prendere vita tramite le vostre mani. Dovete riuscire ad esprimere la profondità dei sentimenti e dell'avere le cose, qualcosa a cuore. E qui si fa una breve pausa. Come si fa ad esprimere l'amore tramite le mani? E ora, come si fa ad esprimere la tristezza tramite le mani? Come si fa ad esprimere la tristezza tramite le mani? Come si fa ad esprimere la tristezza? Come esprimere la tristezza? Come si fa ad 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 esprimere la tristezza? E lentamente ritornate a un punto di stasi nelle mani. Ora invochiamo l'archetipo dello sciamano, della donna guaritrice, dell'uomo guaritore. e permettete le vostre mani di riuscire a trovare come si fa ad esprimere la tristezza. Ricordatevi i movimenti che avete trovato, come potete ritrasmetterli tramite le mani. At the same time that others communicated with you. Qui altri lo hanno comunicato a voi. The fluidity of medicine people in us. La fluidità degli sciamani in noi. And really park your critic and do it at the level that feels right to you. Fatelo nel modo che sembra giusto a voi. Non siate progetti a qualche idea di criticismo, di critica. In questo caso come potete scrivere la necessità dell'avventura, di essere avventuroso. And then slowly take it to a point of stillness. In the last archetype we call forth the great king or the great queen. Remember that movement in you, that energy and see how it can be translated through your hands. Ricordatevi il movimento in voi e vedete come esprimerlo tramite le mani. That part of you that knows what needs to happen, that sees what's needed in the context. That is grounded, that can complete projects, that has weight, that has landscape around. That part that does not apologize for who it is. That part that does not apologize for who it is. Just feel that healthy pride in oneself through your hands. Proprio sentite tramite le mani quell'orgoglio in se stessi, quell'orgoglio sano di sapere chi si è. Lentamente tornate ad un punto di stessi con le mani. And for the last minute I'm going to invite you to simply touch each other's hands and notice what else, what do you feel, what are the special qualities of these hands. And now, in this last minute, I invite you to touch each other's hands and see what else there is. Quali altre qualità ci possono essere da esprimere? Che cosa c'è di speciale in queste mani? Notate la forma delle dita o le unghie. Notate la forma delle dita o le unghie. Che tipo di persona ha questo tipo di mani? Con queste qualità. Che cos'altro riuscite a sentire al di là degli archetipi? And slowly you're going to bring your hands down and you're going to spend the last eight to ten minutes and then we're going to complete as a group here. Just sharing with your partner how was this experience to communicate these different experiences, these parts of you. And all you are going to respond. Are... OK. Maybe they'reieli on the next field. I'm going to answer many questions. By próximo. You have to give me the answer number. Anybody else have to see this? And one too say? No, you're only listening because of hello, I think it's understood by the head of the shirt. Go ahead, that's right. It's completely normal. Because, because without telling you, I took something away from you. I took away the cognitive, no, from everybody, from everybody, I took something, I took away the cognitive. And all you do is you sense, you are using your sensory grounded experience. And it's so powerful. And you feel the normal clothes, the way you usually communicate, it's not there. So it's very vulnerable. So thank you for saying that. Because it's true. I know. I know. You felt that as well a bit. I'm a little bit, but I'm going with the mentality of the tourist, exploring. Oh my God, the mentality of the tourist, how good! From my side, I think it's great, and that's actually great, because I was doing it together, but I didn't do it myself all the time. And the opposite of the opposite, because this is my way of exploring and doing it together, instead of doing it always alone, because you do it together. That's right. So we're going to leave it here. We're going to come here so I can see you all from here. and don't rush tonight. Don't rush tonight. Don't rush tonight. Don't rush tonight. because we have activated different parts inside. So you will feel a bit vulnerable. So my suggestion is that you don't marginalize your vulnerability. So my suggestion is that you don't marginalize your vulnerability by going fast. Andando velocemente. Take care of yourself. No, prendetevi cura di voi stessi. I need some water. Oh, bisogno di un po' d'acqua. Suggestion for who can't, because we have to work tonight. You said... So, just a second. You said that it's not possible because she has to work. She has to work tonight. Let me give her another option. Okay. So let me give you another option. All right, give me another option. Okay. Work as hard as you want tonight. Lavora tanto quanto vuoi stasera. And as fast as you want. Velocemente, tanto velocemente quanto vuoi. The difference is be a little bit more aware of your movements. La differenza sta nell'essere più consapevole dei tuoi movimenti. Yeah. So that's my suggestion to really tonight. See if you can be a bit more aware of the way you move. Quindi, vedere se riesci ad essere più consapevole di come. So if you're gonna pick up your kid. Quindi, quando prenderai in braccio tuo figlio. Yeah. Maybe you're a little bit more aware of how you pick up your kid. Forse. Puoi essere più consapevole di come lo prendi in braccio. Yeah. So that you're a little bit more conscious of the body work with them. Quindi sei un po' più consapevole del lavoro corporeo, no? So by all means do what you need to do. Quindi è chiaro. Fate quello che dovete fare. Because taking care of yourself maybe having to work. Perché prendersi cura di se stessi forse significa anche lavorare. Yeah. So. But the thing I'm trying to suggest is that don't think that the way you move has no impact. Però quello che sto cercando di suggerirvi è di non pensare che il modo in cui vi muovete non ha alcun impatto. Yeah. Yeah. So that's all I'm trying to say. Tonight you may have a strong dreams. Stanotte per esempio potreste anche avere dei sogni molto importanti. Because we've worked with archetypes which are universal energies. Perché abbiamo lavorato con degli archetipi, no? Che sono energie universali, energie universali. So some of your dreams may continue the work. Quindi forse nei sogni continuerete a lavorare. So the way we're gonna complete is by just taking a moment. Quindi per terminare prendiamo un attimo. Just close your eyes and take a few deep breaths. And just take a deep breath and let go a sound that releases the energy. Andate un respiro profondo. Ed emettete un suono che rilasci l'energia. And we just simply hold an invocation. together as a group. E facciamo un'invocazione adesso insieme come gruppo. May this exploration that we are doing. Che questa esplorazione che stiamo facendo. Before the benefit of us. Possa essere per il nostro beneficio. Those that we love. Per coloro che amiamo. Those that we know. Per coloro che conosciamo. Those that we do not know. Per coloro che non conosciamo. Those that came before us. Per coloro che ci hanno preceduto. And those that will come after. E per coloro che verranno dopo di noi. May it benefit the earth. Che possa beneficiare la terra. Good night. Buonanotte. So. I hope to see you tomorrow. Spero di vedervi domani. Those that cannot come. E coloro che non possono venire. E coloro che non possono venire. Però il loro spirito è qui. And we also will welcome those that will come. E daremo il benvenuto a coloro che arriveranno. So. Even though. That's such a life. So. Good night. And have a wonderful evening. And I will see some of you tomorrow hopefully. Buonanotte. Passate una bella serata. E spero di rivedervi domani.